stai mettendo i soldi da parte? sei pronto a sborsare tutto ciò che guadagni per curare tuo figlio? per il tumore cerebrale che gli hai procurato tu? dandogli il telefonino già nel carrozzino? perché l'hai fatto? per ingozzarti indisturbato di animali morti con i tuoi mediocre i miei amici? era un olio genit?